Grazie a tutti. Grazie a tutti. 1-2982-3048-3229-3235-3328-3447-3993-4009-4020-4145-AR, disposizione concernente alla coltivazione e la somministrazione alla cannabis a uso medico. Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno. Passiamo al voto finale. Forza Italia ha una caratteristica nelle sue scelte di rilievo. Noi siamo chiari, siamo conseguenziali, non abbiamo timore delle nostre opinioni. E con grande fermezza le teniamo in aula, le teniamo tra la gente. E non abbiamo nessuna paura di apparire in controtendenza, poco moderni, poco laici, tra virgolette. laddove al termine laico si dà un'accezione postmodernista, se mi può essere fatto passare il termine. Cioè è un modo per giustificare qualsiasi violazione di tipo etico e di tipo normativo. Noi non ci stiamo. Noi siamo rigorosi, abbiamo delle idee, le esprimiamo e cerchiamo il consenso sulla scorta di questa chiarezza. Ci sono provvedimenti che nascono in un modo, si evolvono e raggiungono l'aula con delle determinazioni diverse rispetto al punto di partenza. Ma quella determinazione, quella causalità che aveva mosso il provvedimento emerge, come è successo ieri per questo provvedimento, inevitabile. Il titolo del provvedimento è a disposizione concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico. L'articolo 32 della Costituzione tutela il diritto alla salute, quindi l'ambito della discussione avrebbe dovuto incentrarsi essenzialmente sul rapporto fra il farmaco e il rapporto con il DM 9 novembre 2015, che già regolamenta questa materia, e gli sviluppi migliorativi dell'idea di farmaco con riferimento alla cannabis. Niente di tutto questo. Ieri abbiamo ascoltato in aula, e noi ce lo aspettavamo, il tentativo subdolo di alcune forze di questo Parlamento di truccare le carte e introdurre sulla scorta di una finta sublimazione normativa un principio di non sostanziale, formale legalizzazione dell'uso della cannabis. Io credo che bisognava dirlo. Bisognava dirlo. Non pretendere che sotto la scorta dell'uso medico certificato si potessero coltivare piantine a volontà, a casa propria, addirittura portare cannabis con sé al di fuori dei luoghi fosse non punibile. Cioè una sorta di non depenalizzazione o decriminalizzazione o di causa istintiva, ma di, come posso dire, una bonifica etica, imbarba alle norme che oggi vigono nel nostro sistema. Noi su questo non ci stiamo. Lo diciamo con molta chiarezza. Nel rapporto rischi-benefici di questo provvedimento, noi scegliamo il diritto alla salute. Non lo scegliamo perché è una nostra presa di posizione che deriva da una sorta di rifugio dietro presidi pseudoetici di carattere moralistico. Ma se gli atti devono essere letti, basterà leggere la posizione di Silvio Garattini, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche del Mario Negri di Milano, per chiarire un passaggio fondamentale. Se vale l'articolo 32, la cannabis non fa bene, fa male. È un prodotto nocivo, dice Garattini. Il suo utilizzo aumenta l'incidenza dei malattie psichiatriche, soprattutto nei giovani. Ha un alto potere cancerogeno, superiore a quello delle sigarette. Dà dipendenza, almeno a livello psicologico, e rappresenta una porta d'ingresso verso il consumo di altre droghe. Legalizzarla sarebbe un grave errore. Ci sono già sostanze dannose, il cui consumo è illegale nel nostro Paese. Perché aggiungerne altre? Ho sentito ieri la differenza veramente paradossale tra lo sballo da alcol e lo sballo da sostanze stupefacenti. Cioè siamo arrivati davvero a bonificare, a giustificare lo sballo da cannabis sulla scorta dello sballo da alcol. Cioè una sorta di strano intreccio di situazioni illecite e nocive per giustificare ulteriori nocività. Ecco, noi su questo siamo chiari. Noi non intendiamo essere neanche per un attimo, neanche pretesto, neanche innesco causale, perché questo nel nostro Paese si possa verificare. A livello medico la cannabis ha molti effetti collaterali, è un'efficacia dubbia. Ma qui c'è già il DM del novembre 2015. Allora se migliorare quella situazione può significare aprire uno squarcio verso la legalizzazione, bene, noi diciamo no e diciamo fermamente no. E l'Aula ieri lo ha dimostrato come questa malafede di fondo, serpeggi. Questo è un provvedimento che nasce alla Camera, Presidente, ma passerà al Senato. E le sorprese, gli appostamenti, i tranelli, le trappole, noi fin d'ora li esorcizziamo con un nostro fermo o no su questo provvedimento. E' certificato che l'ascisce e la marihuana aumentano l'incidenza di psicosi e depressione. Le droghe cosiddette leggere si accompagnano ad una condotta di vita non salutare che ne peggiora gli effetti. Ma scusate se lo dico, ma questo è assolutamente elementare. Ma come si può sostenere il contrario? Cioè non c'è bisogno di garattini per dircelo. E' proprio evidente che siamo di fronte al tentativo di innestare nel nostro sistema la legalizzazione di quello che fa male. L'articolo 32 o la Costituzione è soltanto un'opinione. E questi culturalismi evoluti debbano travolgere i principi fondanti del nostro sistema. Ma, Presidente, per esorcizzare un altro fantasma, un attenti allupo da Procopio e Vadalla, per chiarire un dato evidente, le mafie. Ho sentito invocare ieri in aula questo provvedimento di liberalizzazione come una lotta alle mafie delle sostanze superfacenti. Non citerò Gratteri neanche per un attimo, il quale ha puntualizzato quanto questo sia un falsissimo problema. Ma è evidente che il costo che dovremmo sostenere, quello che si dovrebbe sostenere per legalizzare queste forme di intossicazione personale e, fatemelo dire, statuale e ordinamentale, è nettamente superiore al costo che qualsiasi associazione criminale potrebbe ottenere per legalizzare, per distribuire sotto copertura queste sostanze. Quindi di che cosa stiamo parlando? È chiaro che l'illecito si adegua sempre facilmente al costo del lecito, quindi neanche servirebbe a combattere alcun che, anzi alimenterebbe un mercato nero e darebbe la possibilità di diffondere in luoghi dove queste sostanze non arrivano, addirittura legalmente. Allora, fermi tutti. Rischi, benefici. Ci si occupa dell'uso medico, ma il rischio sottostante è molto più grave. Allora noi preferiamo, Presidente, con molta chiarezza e con molta fermezza, un no fermo, un no che sia chiaro anche al Paese. Vi è la possibilità di curarsi, diceva bene qualcuno ieri nel dibattito, si vuole un farmaco, non si vuole una piantagione. La pianta è una cosa, il farmaco è un altro, il dosaggio è un dato, la libertà di dosaggio e di apprezzione di queste sostanze è un altro. Ma, illustri amici della maggioranza, il rischio è incombente. Qui siamo di fronte ad una sorta di bomba chimica che può essere innestata ad ogni pieso spinto, con un semplice emendamento. Allora la fermezza nel dire no ad un miglioramento che può essere un clamoroso peggioramento, solo che il vento di un emendamento possa modificare questa struttura, ci porta ad essere, come posso dire, fermamente contrari a questo pretesto, perché sostanzialmente il calcio d'angolo in cui si è rifugiata la maggioranza, optando correttamente per l'uso medico rispetto a quello che era il disegno eversivo, tra virgolette, iniziale, ci porta ad una contrarietà che è etica, giuridica, costituzionale, soprattutto cautelativa. Il nostro no cautelativo rispetto a questo provvedimento è un no nell'interesse delle giovani generazioni, nell'interesse dei nostri ragazzi, nell'interesse del diritto alla salute, che deve essere tutelato, non con l'equivoco di introdurre a mezzo di voto segreto un emendamento che potesse sconvolgere il nostro sistema, ma nel mantenere fermamente, con chiarezza, con puntualità, senza equivoci, ecco, vedete, anche l'equivoco ammette qualche errore nell'ambito della foga di affermare un principio, ma è l'importante rimediare all'errore. E allora io sono convinto che questo provvedimento che ha cercato di rimediare al tentativo di introdurre nel nostro sistema la liberalizzazione di sostanze pericolose, non andrà in quel senso, ma col nostro no fermamente, al massimo, si fermerà all'uso terapeutico. No a questo provvedimento, i rischi sono nettamente superiori ai benefici. Grazie, Presidente. Chiedo intervenire l'Onorevole Pastorelli. Grazie, Presidente. Governo, Onorevoli colleghi, abbiamo fatto parte dell'Intergruppo per la legalizzazione della cannabis e siamo dispiasciuti nel discutere e votare un testo che giunge in aula amputato della sua parte principale, quella riguardante appunto la legalizzazione. In questa legislatura abbiamo svolto un lavoro trasversale con oltre 220 parlamentari per arrivare a un testo che mirava non a liberalizzare, come sostengono i detrattori della legge, ma a regolarizzare l'uso della cannabis, togliendo in via definitiva le droghe leggere dal monopolio delle organizzazioni criminali e consentendo il controllo del consumo senza per questo incentivarlo. Dopo tanto lavoro la sfida è persa, così come è persa l'occasione di accogliere le richieste di circa 67.000 cittadini che hanno firmato la legge popolare promossa dall'Associazione Luca Coscioni. Tutto questo, di certo, non ridurrà il consumo della cannabis da parte della popolazione, si continuerà a utilizzare quella illegale di qualità incontrollata e senza dubbio più nociva. Oggi andiamo a votare un testo sfigurato che ha bocciato persino la legittimità della coltivazione personale a uso terapeutico. Rimane un provvedimento mite che prevede l'utilizzo della cannabis per i soli scopi terapeutici e che avrà un'efficacia limitata. Resta il rammarico per l'occasione persa, ma riconosciamo che almeno sul fronte dell'utilizzo a scopi terapeutici si è compiuto un piccolissimo passo. La componente socialista voterà quindi a favore, ma lo farà con grande amarezza per la grande opportunità svanita. Grazie. Ringrazio Onorevole Binetti. Non la vedo. Onorevole Fucci. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, come ho avuto modo di dire in sede di intervento sul complesso degli emendamenti all'articolo 1, il testo arrivato in Assemblea è, obiettivamente, migliorato rispetto a quello inizialmente posto all'attenzione della Commissione Affari Sociali. In quella sede avevo spiegato le ragioni. Da una parte il testo al nostro esame è positivo in quanto non contiene più riferimenti diretti all'uso ricreativo della cannabis e ad iniziative che definisco surreali, quale quelle dei cosiddetti Cannabis Club. Dall'altra il dibattito in Commissione aveva per fortuna portato il tenore del dibattito sul provvedimento su temi in merito di carattere medico-cientifico. Più nel merito del testo sono apprezzabili i riferimenti negli articoli 2 e 3 alla definizione di uso medico e alle modalità di prescrizione. Il nostro voto tuttavia, onorevoli colleghi, non può essere favorevole. Purtroppo il mancato accoglimento degli emendamenti a nostro parere migliorativi presentati in Assemblea pregiudica pregiudica le pur positive considerazioni fatte poc'anzi. Se è vero che il testo su cui a breve voteremo non contiene più riferimenti espressi a temi per noi inopportuni e insostenibili, lo è altrettanto che il testo non sembra offrire quelle garanzie che in definitiva noi chiedevamo e abbiamo sostenuto nei lavori parlamentari. Garanzie in termini di tutela e prevenzione rispetto all'utilizzo ricreativo in qualche modo autorizzato della cannabis. Penso al tema molto importante del monitoraggio e della conseguente valutazione dell'utilizzo di cannabis per scopi medici. Questo è un punto fondamentale su cui si doveva fare molto di più. Un punto davvero fondamentale in assenza del quale francamente non si può sapere con relativa certezza quale direzione possa prendere la successiva concreta fase di attuazione di questo provvedimento. Esprimo quindi in conclusione a nome del gruppo di direzione Italia un voto di astensione al provvedimento in esame. Grazie. Ringrazio Onorevole Artini. Grazie Presidente Onorevoli colleghi membri del Governo. È frustrante per una forza parlamentare dover giudicare una legge penosa sia dal punto di vista pratico sia da quello etico. questa legge nasceva infatti per sottrarre dal mercato delle droghe leggere alle mafie in modo da avere risorse da destinare alla crescita del Paese ma a questo punto è scomparso dal testo che ci accingiamo a votare. Anche la parte che riguarda l'uso terapeutico di cui è rimasto qualcosa è assolutamente lontana da ciò che ci chiedono i malati. Tutto ciò sarebbe stato più che sufficiente per farci desiderare di bocciare questa legge. Purtroppo però saremo costretti ad approvarla poiché è un piccolo passo avanti anche se storto e travallante è meglio di nulla e visto che abbiamo un mandato dai cittadini italiani per modificare e migliorare queste norme voteremo sì anche se lo facciamo con la morte nel cuore perché oggi si sarebbe potuto far spiccare al Paese un salto verso una civiltà una cultura dei diritti diversa e verso una lotta alla criminalità organizzata con atti veramente concreti questo però purtroppo non è accaduto grazie la ringrazio l'onore lo ebinetti adesso presente prego grazie presidente mi scuso oggi è arrivato in aula alla camera dei deputati il testo sulla cannabis riguarda esclusivamente il suo uso terapeutico essendo stata stralciata la parte sulla legalizzazione e sulla conseguente liberalizzazione per molti colleghi delusi dall'attuale scelta limitativa del Parlamento soprattutto tra i moltissimi che hanno fatto parte dell'intergruppo parlamentare sulla cannabis legale si tratta solo di una prima approvazione a cui seguirà certamente un secondo step probabilmente nella prossima legislatura che decreterà la piena legalizzazione sulla cannabis questo rischio reale che è molto più che un rischio è tra le ragioni fondamentali per cui l'UGC esprimerà il proprio voto contrario alla legge ma c'è un altro aspetto importante non soltanto la possibilità di prescrivere la cannabis era già presente in un documento del 2007 del ministro della salute Olivia Turco riconfermato nel 2015 da Beatrice Lorenzini ma il 22 febbraio di quest'anno la dottoressa Marletta direttore generale del ministero della salute ha trasmesso ai medici prescrittori della cannabis sprodotta dallo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze un documento recante raccomandazioni specifiche un documento ampiamente condiviso tra esperti ricercatori medici farmacisti il documento insisto disponibile per tutti sul sito del ministero tratta il tema della prescrivibilità il monitoraggio delle prescrizioni le esigenze terapeutiche e si sofferma con particolare attenzione sulle controindicazioni sugli effetti collaterali sulle avvertenze speciali sulle precauzioni di impiego sulle interazioni con altri medicinali sul rapporto tra cannabis gravidanza e allattamento dimostrando come passi attraverso la placenta anche al feto sugli effetti sulla capacità di guidare i veicoli e sull'uso di macchinari sul sovradosaggio sul monitoraggio della sicurezza so che i tempi a mia disposizione sono minimi ma io chiedo di consegnare il documento e voglio dire che nessuna di queste osservazioni che nascevano esclusivamente dal buonsenso da documenti già consegnati che ne chiedevano la messa a norma nessuna di queste osservazioni è stata presa minimamente in considerazione presentando una legge fortemente ideologica nella sua proposta e sostanzialmente tesa a per lo meno sul piano dell'opinione pubblica a alleggerire quel senso di precauzione che dovrebbe comunque essere percepito non solo dal medico ma da giovani adolescenti famiglie eccetera è una legge sulla quale votiamo convintamente contro Onorevole Totaro Signor Presidente onorevoli colleghi il gruppo di Fratelli d'Italia voterà convintamente contro questo provvedimento i cui scopi sono stati abbastanza chiari ascoltando il dibattito di ieri da parte di alcuni appartenenti a questo Parlamento non a caso questo provvedimento era partito come un provvedimento in cui si parlava dell'uso della cannabis come di un uso ricreativo la cosiddetta diciamo legalizzazione della cannabis poi si è parlato di un percorso diciamo e di un utilizzo di carattere terapeutico all'interno del provvedimento ieri abbiamo visto nel dibattito intervenire molti colleghi dire cose a sproposito sulla coltivazione addirittura personale della cannabis e altre diciamo proposte che chiaramente andavano nella direzione della liberalizzazione chiamatela legalizzazione chiamatela come volete comunque di questo prodotto che qualche collega che è intervenuto prima di me vi ha detto già di che cosa stiamo parlando perché non è che dobbiamo parlare noi facciamo parlare gli scienziati di questa cosa il professor Silvio Garattini presidente da 40 anni dell'istituto ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano alla domanda se la cannabis è pericolosa risponde è senz'altro un prodotto nocivo è dimostrato che nel tempo il suo utilizzo aumenta l'incidenza di malattie psichiatriche soprattutto nei giovani e a causa dei metodi con cui viene fumata ha un alto potere cancerogeno superiore anche a quello della sigaretta allora basterebbe già questo per evitare qualsiasi tipo di dibattito su questo argomento che tra l'altro nasconde una sorta di ipocrisia da parte di molti appartenenti a questo Parlamento perché guardate almeno gli antiproibizionisti seri mi riferisco a uomini come Marco Pannella o altri hanno dal loro punto di vista ovviamente dal nostro punto di vista noi abbiamo sempre combattuto quella posizione però hanno sempre parlato della liberalizzazione di tutte le droghe non distinguendo fra droghe pesanti e droghe leggere loro dicevano noi siamo antiproibizionisti siamo per la legalizzazione di tutte le droghe perché vogliamo combattere la criminalità contestabile questa posizione noi l'abbiamo contestata per anni perché riteniamo che sia una posizione molto grave per le nostre giovani generazioni per la nostra società però aveva una sua valenza aveva una sua presa di posizione voi siete anche degli ipocriti perché non parlate delle droghe pesanti dite che questa è una droga leggera come se nulla fosse e non facesse male ebbene è sotto gli occhi di tutti i prodotti del consumo della cannabis quindi surrettiziamente attraverso questo provvedimento volevate fare questo poi vi siete fermati all'uso terapeutico ora voglio dire già è stato detto da alcuni colleghi nel dibattito ma per quanto riguarda l'uso terapeutico a parte il fatto che già scienziati dicono che è tutto da provare il fatto che il cannabis sia utile nell'uso terapeutico è tutto da provare c'è un dibattito aperto nella comunità scientifica nazionale e voi già siete pronti col provvedimento strana questa Italia che su tante cose quando c'è un problema serio che riguarda il popolo italiano è lento non decide porta avanti le decisioni per mesi e per anni senza prendere una posizione su questa cosa subito prima della comunità scientifica arriva il PD di Renzi e compagni vari e ci presentano questa proposta in Parlamento allora voglio dire c'è un dibattito aperto sull'utilizzo terapeutico di questa sostanza non è vero come è stato affermato che è scientificamente provato ci sono tra l'altro altre sostanze che vengono utilizzate in uso terapeutico derivanti da altre tipo la morfina quindi per quanto riguarda gli oppioidi che non hanno avuto bisogno per l'utilizzo ad uso terapeutico di una legge dello Stato nazionale sono droghe non legali quando si tratta di droghe di oppioidi nella versione diciamo di droghe pesanti come l'eroina però per uso terapeutico sicuramente è l'istituto nazionale del farmaco italiano gli istituti preposti dal punto di vista sanitario che decidono l'utilizzazione e hanno normato l'utilizzazione di questi prodotti diciamo di provenienza dagli oppioidi che sono diciamo droghe anche più pesanti di quelle cosiddette leggere che prodotte attraverso la cannabis allora voglio dire perché su questa cosa invece si tenta di fare una si vota una legge in Parlamento bastava se c'è un utilizzo terapeutico fare come si avviene per altre per altre sostanze invece no è chiaro che e il dibattito di ieri lo ha dimostrato molti di voi che sono intervenuti l'hanno dimostrato che ha avuto il coraggio almeno di prendere una posizione di dire la verità su quello che pensava parlando delle liberalizzazioni più incredibili direi ecco allora voglio dire attraverso questo provvedimento si è è stato un passaggio poteva essere il cavallo di Troia per arrivare diciamo alla liberalizzazione delle droghe leggere tra l'altro tra le tante cose che sono state dette in quest'aula al riguardo veramente ridicola è la posizione di chi dice liberalizziamo o legalizziamo perché così combattiamo la grande criminalità ma per cortesia smettetela di dire queste sciocchezze ma scusate ma innanzitutto se parliamo di droga allora dovreste liberalizzare tutte le droghe in tutto il mondo per combattere la grande criminalità perché non è che la potete liberalizzare in un posto e poi tutte le droghe e poi gli stati dovrebbero entrare in competizione con le organizzazioni malavitose per ora ci sono nuove droghe tipo le droghe sintetiche eccetera per entrare in competizione per essere diciamo per vendere meglio il prodotto delle organizzazioni criminali ma veramente mi sembra che qui si è perso il lume della ragione non so se qualcuno qua in quest'aula fa uso di sostanze stupefacenti o no io penso di sì a questi punti se propone queste sciocchezze quindi la criminalità che ha proventi da tantissime altre cose e non soltanto dalla droga non si combatte così signori così lo sapete cosa succede che volete addivenire ad una società in cui i giovani diventano dei lobotomizzati sì sì questo sì volete sì sì attraverso una società e un'Europa dei banchieri delle banche del profitto senza ideali senza credere in niente che combatte per il nulla che non ha ideali per cui combattere per cui lottare per cui valga la pena vivere sì certo questo la società dello sballo la società in cui prevale la cultura dello sballo in cui semmai attraverso dopo una canna ci si ubriache altro esempio bellissimo che avete fatto ieri in quest'aula no perché c'è lo sballo da alcol vabbè perché c'è lo sballo da alcol è un problema signori che crea gravissime situazioni di carattere sociale all'interno delle famiglie che ha quel problema è un problema gravissimo ne vogliamo sommare un altro io penso che sia una grandissima vergogna che in questo Parlamento qualcuno proponga queste cose ma d'altra parte è in linea con le posizioni di molte in questa in questa nostra società in questa nostra società occidentale sempre più in decadenza che propone e fa dibattiti su queste cose certo prevale e c'è la voglia di far prevalere altre idee altri interessi in questa nostra società e c'è la volontà di creare una società di giovani che la mattina si alzano e semmai pensano a come sballarsi meglio e non semmai come potrebbero pensare a cambiare questa società a intervenire su quelli che sono i loro problemi a intervenire sulle grandi questioni che riguardano il modo di vivere il modo di confrontarsi con l'essere con quello che sarà il domani di questo nostro popolo della nostra nazione di questa Europa certo si si va bene così non potevamo aspettarci altro da chi sta portando alla distruzione questo nostro paese e questa nostra Europa c'è un filo conduttore comune che attraversa tutti i paesi in queste posizioni che avete che va dalla sinistra alla cosiddetta destra diciamo tra virgolette liberale che prende posizioni in questa direzione e beh è un filo conduttore ben chiaro bene noi dal nostro punto di vista fratelli d'Italia che ha sempre creduto invece nella cultura della vita che i giovani vadano educati a vivere a vivere perché vale la pena lottare per qualche cosa noi come destra politica come fratelli d'Italia voteremo convintamente contro questo provvedimento che non porta da nessuna parte perché non è un intervento che la comunità scientifica richiede perché il dibattito ripeto è aperto sull'uso terapeutico della della cannabis e non c'è nessuna soluzione in merito già scontata e non si capisce perché il Parlamento intervenga su questo quindi chiaramente era un intervento sul rettizio un intervento in cui attraverso il cavallo di Troia di questo provvedimento si cercava di far passare invece la liberalizzazione la legalizzazione se vi fa più piacere che è la stessa cosa per me della cannabis e poi semmai per parlare anche delle altre droghe ebbene noi voteremo convintamente contro perché siamo dalla parte invece della vita grazie ha chiesto di intervenire l'onorevole Giglio prego grazie presidente questa proposta di legge che oggi arriva a conclusione nasce in risposta ad una pressione diffusa che si è sviluppata fin dall'inizio della legislatura e che ha portato è stata portata avanti da un fronte trasversale che ha finito per raccogliere la bellezza di circa 200 deputati molte delle proposte presentate si riferivano all'uso della cannabis a scopo ludico e prevedevano la libera coltivazione della cannabis anche in forma associata a scopi ricreativi oggi siamo qui al termine di un significativo braccio di ferro tra queste istanze e quanti si sono opposti alla cultura dello sballo ancora nel dibattito di ieri abbiamo sentito una deputata intervenire contro la pretesa di chi vorrebbe opporsi alla disponibilità di cannabis per tutti non si dovrebbe più pretendere a suo parere che una certa sostanza possa far bene ai malati e fare male a tutti gli altri come se questo non fosse vero per tutti i farmaci e direi soprattutto per i farmaci più efficaci ma se vogliamo appunto utilizzare una sostanza a scopo terapeutico anche la cannabis noi dobbiamo partire da tre considerazioni di base la prima è che il malato chiede di essere curato non di farsi la canna chiede cioè una sostanza che possa aiutarlo a star meglio non appunto la ricreazione secondo l'estrazione dalle piante segna generalmente una fase preistorica dello sviluppo di una sostanza farmaceutica è quanto nella storia della medicina è accaduto molte volte in passato con i principi attivi di origine vegetale è quanto ci auguriamo possa accadere anche per i principi attivi di origine dalla cannabis terzo in ogni caso la coltivazione in forma fai da te di piante a scopo terapeutico non è oggi più accettabile nell'epoca moderna occorre infatti che coltivazione estrazione commercializzazione avvengano in forma controllata per assicurare al malato ciò di cui ha bisogno vale a dire certezza sulle modalità di coltivazione dalla genetica della pianta all'inquinamento dei suoli e delle acque certezza sui contenuti del prodotto principi attivi e purezza degli stessi rispetto ad altre sostanze certezza sulle dosi che il paziente si troverà ad assumere e ciò tanto più per un farmaco rispetto al quale le prove di efficacia che la medicina basata sulle evidenze richiederebbe non sono certamente strabilianti direi le evidenze scientifiche infatti sono di qualità moderata o scarsa con risultati contraddittori e non conclusivi mancano dati a supporto di un favorevole rapporto rischio-beneficio per la cannabis anche se c'è certamente l'interesse a proseguire le ricerche sulla base delle evidenze scientifiche finora prodotte l'uso medico della cannabis non può essere considerato una terapia propriamente detta bensì un trattamento sintomatico di supporto rispetto ai trattamenti standard e gli impieghi riguardano poche condizioni l'analgesia in patologie che implicano la spasticità associata al dolore l'analgesia nel dolore cronico con particolare riferimento a quello neurogeno l'effetto antiemetico nella nausea e nel vomito causati per esempio dalla chemioterapia o dalle terapie contro l'HIV l'effetto stimolante per l'appetito soprattutto nell'anoressia nella perdita dell'appetito in pazienti oncologici e tutto questo tenendo conto che ci sono anche importanti effetti collaterali alterazioni dell'umore insonnia tachicardia crisi paranoiche di ansia reazioni psicotiche sindrome amotivazionale ci sono pertanto delle controindicazioni ed è per questo che la cosa è bene che rimanga nell'ambito terapeutico controindicazioni soprattutto negli adolescenti e nei giovani adulti a causa delle alterazioni mentali che sono maggiori durante il completamento dello sviluppo cerebrale ma anche disturbi cardiopolmonari severi che possono portare all'ipotensione ma anche all'ipertensione alla sincopa e alla tachicardia ci sono individui con una storia personale di disordini psichiatrici di cui dover tener conto o con una storia pregressa di tossicodipendenza oppure in terapia con altri farmaci ad azione ipnotico-sedativa è chiaro che l'uso cronico deve essere oggetto di particolari attenzioni anche perché è bene non scordarselo la cannabis presenta delle proprietà di tipo immunomodulante che possono per uso cronico portare ad una alterazione dell'equilibrio del sistema immunitario per questo dicevo siamo sostanzialmente contenti del punto di caduta che il Parlamento ha trovato e che mentre accoglie l'esigenza di ordine terapeutico nell'interesse ovviamente del malato nell'interesse del malato rigetta ogni altro tipo di interpretazione nell'adozione del testo base infatti sono stati stralciati tutti i testi che miravano a favorire l'uso ludico della cannabis rigettando anche ogni tentativo di cavalcare strumentalmente la coltivazione a fini terapeutici per realizzarla secondo modalità che avrebbero fatto rientrare dalla finestra ciò che era stato fatto uscire dalla porta ieri abbiamo assistito a un dibattito è il caso di dirlo vista la materia fumoso rispetto al quale a proposito di alcuni interventi veniva voglia quasi di suggerire all'oratore di cambiare fornitore ebbene devo dire però che al termine di questo dibattito forse le posizioni si sono meglio delineate il nostro gruppo è particolarmente soddisfatto perché l'esito del provvedimento corrisponde in larga misura ai contenuti della proposta di legge che insieme all'onorevole Marazziti all'onorevole Dell'Ai all'onorevole Sberna avevo presentato siamo anche lieti che per la prima volta in questa legislatura e a differenza di quanto è accaduto su altri temi sensibili come le unioni civili e il testamento biologico il partito di maggioranza relativa abbia scelto di non assecondare le correnti più rappresentative della cultura individualistica e radicale anche con evidente sofferenza per la presenza di queste stesse correnti di pensiero al suo interno come evidenziatosi ieri nell'esito dei voti segreti ad eccezione dei quali tuttavia occorre riconoscerlo il partito democratico ha tenuto la linea tutto bene dunque sì e no come sempre il bicchiere può essere visto come mezzo pieno o come mezzo vuoto noi lo vediamo come mezzo pieno certamente ma non possiamo essere contenti del tutto per l'evidente difficoltà che si è manifestata ieri ad accogliere emendamenti di assoluto buonsenso dal punto di vista sanitario e corrispondenti peraltro l'abbiamo sentito citare anche stamattina a documenti fondamentali del nostro Ministero della Salute che sono stati bocciati per evidenti ragioni di tenuta interna da parte del partito di maggioranza relativa resta infatti nel testo una qualche fumosità e indulgenza rispetto ad una impostazione che avremmo voluto di maggiore distanza culturale rispetto all'uso ricreativo di maggiore chiarezza rispetto ai danni della cannabis di maggiore attenzione al messaggio anche educativo che può passare per le nuove generazioni di più efficace vigilanza rispetto alle conseguenze dell'uso controllato del farmaco rispetto agli effetti collaterali rispetto ai problemi di dipendenza che potranno porsi lo Stato ha scelto molto positivamente di non liberalizzare ciò che fa male sarebbe stato ancora più positivo se non avesse rinunciato ad indicare alla gioventù stili di vita salutari e modelli positivi di comportamento per questo pur approvando convintamente come gruppo questa proposta di legge restiamo preoccupati sia per le residue ambiguità sia per i desideri di rivincita che già sono stati annunciati ieri rispetto a quanto accadrà nella prossima legislatura grazie onorevole Bezzali grazie presidente sottosegretario migliore colleghi in Italia la cannabis dal punto di vista medico è legale dal 2007 da quando l'allora ministro della salute Livia Turco riconobbe tramite apposito decreto l'uso in terapia di uno specifico cannabinoide il Delta 9HC e dei suoi omologhi quattro anni dopo nel 2013 quando ad essere ministro della salute era Renato Balduzzi fu esteso il riconoscimento dell'efficacia per scopi terapeutici anche alla pianta di cannabis in forma vegetale e ai suoi estratti e preparati allargando quindi lo spettro dell'uso terapeutico da un cannabinoide specifico all'intera pianta la tutela della salute è secondo la nostra costituzione una materia legislativa concorrente fra Stato e regioni per questo ormai a partire dal 2012 sono state varie le regioni che hanno adottato proprie leggi sull'uso terapeutico della cannabis la prima nel 2012 è stata la Toscana ma quasi tutte le altre ad eccezione della Lombardia hanno poi legiferato sul tema il problema è che ognuna l'ha fatto a modo suo in alcune regioni è consentito l'uso solo per la terapia del dolore causato da gravi malattie in altre invece anche stati di stress o di ansia possono portare i medici di base alla prescrizione vi è poi il problema dei costi anche qui ad oggi sono le singole regioni a stabilire quando questi possano essere imputati al servizio sanitario nazionale e quando invece debbano essere a carico degli utenti il testo che stiamo per votare vuole uniformare sul tutto il territorio nazionale il sistema dei rimborsi obiettivo nobile che speriamo possa fare chiarezza sarà rimborsabile l'uso medico della cannabis connesso a patologie particolarmente gravi dalla sclerosi multipla all'anoressia passando per i trattamenti riconducibili a chemioterapie o radioterapie non sto a delencarli tutti quello che è importante e che va fatto è l'aggiornamento dei trattamenti rimborsabili in base alle evidenze scientifiche che emergono su questo punto sarà importante che le camere monitorino l'attività del governo del resto già un decreto nel 2015 prevede che la revisione biennale venga fatta in base alle evidenze scientifiche che possono emergere altre note positive della proposta sono la creazione di un database nazionale curato dall'istituto superiore di sanità che possa monitorare le prescrizioni su base nazionale e la programmazione annuale del fabbisogno nazionale uno strumento che dovrebbe evitare almeno così auspichiamo l'importazione dall'estero della cannabis fenomeno che aumenta i costi per lo Stato e quindi per i cittadini necessiterebbe di un chiarimento maggiore invece la disposizione secondo cui il Ministero può autorizzare enti o imprese diverse dallo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze alla produzione di cannabis nel caso in cui il fabbisogno sia superiore ai livelli di produzione raggiungibili un chiarimento su chi poi dovrebbe pensare alla trasformazione in medicinali ed anche su quali siano le caratteristiche che questi enti o imprese devono possedere per poter ambire a produrre le campagne di informazione la formazione del personale medico la promozione della ricerca sono tutte previsioni che ci convincono della bontà di una legge che arriva tardi che potrebbe non vedere la luce per la miriade di provvedimenti cui il senato dovrà dare il via libera in questi ultimi mesi di legislatura ma che sarebbe veramente necessaria per uniformare la disciplina in materia a livello nazionale durante il dibattito si è analizzato più quello che non c'è in questo provvedimento che quelli che invece sono i contenuti quello che non c'è è la legalizzazione o liberalizzazione della cannabis non solo a scopo terapeutico ma anche a scopo ricreativo in questo mio breve intervento non sono voluta scendere nella diatriba e nella discussione che si è accesa in quest'aula e che in realtà si protrae da anni nel paese la liberalizzazione delle droghe leggere come anche della prostituzione se vogliamo è un tema che ciclicamente torna al centro del dibattito politico su questo punto le sensibilità interne del nostro gruppo sono diverse e se fosse fosse arrivato in votazione il testo inizialmente licenziato dalla commissione rimandato indietro dall'aula ormai più di un anno fa la nostra linea sarebbe stata quella della libertà di coscienza qualcuno avrebbe dato il proprio convinto assenso altri avrebbero espresso un altrettanto convinto di niego non è questo il momento di pensare a quel che sarebbe potuto essere e non è stato è invece giunta l'ora di approvare una normativa quadro sull'uso terapeutico della cannabis e dei suoi derivati per questo e per le valutazioni espresse in precedenza il voto del gruppo scelta civica ALA sarà favorevole grazie la ringrazio onorevole Daniele Farina grazie presidente dopo quattro anni rotti di lavoro di estenuante discussione parlamentare quella di oggi è indubbiamente l'hanno detto in molti un'occasione perduta avevamo l'opportunità di far avanzare il paese verso quelle esperienze concrete che vanno svolgendosi qua e là nel mondo sempre più frequenti e diffuse a mano a mano che si rendono evidenti gli enormi costi economico e sociali di quelle politiche che per convenzione chiamiamo proibizionismo discussione parlamentare ma anche dibattito pubblico volti ad una diversa regolazione della cannabis del suo consumo produzione e distribuzione a nuovi strumenti di lotta contro la criminalità organizzata a nuovi approcci e risorse per l'informazione e la prevenzione queste idee nel corso della legislatura hanno preso forma di proposte di legge firmate da centinaia di deputati forma di proposte di legge di iniziativa popolare affiancate da prese di posizione atti ufficiali iniziative di associazioni giornalisti financo di magistratura in virtù tutto questo del disastro evidente che abbiamo attraversato e di una prospettiva nuova che si può aprire anche in Italia e invece a ritardo si sommerà ritardo capisco quanto sia difficile superare un gigantesco dispositivo durato oltre 70 anni e denso di costanti falsificazioni scientifiche che vanno tuttavia colleghi cadendo pezzo a pezzo ma il cui eco ancora si sente forte in quest'Aula con emendamenti e argomentazioni che fuori da qua appaiono spesso surreali dall'erba del diavolo alla bomba chimica innescata abbiamo ascoltato veramente di tutto e sempre in quest'Aula la parola legalità è stata spesso usata come un corpo contundente qui siamo in presenza di un gigantesco meccanismo criminale che da decenni corrompe il paese veicolato da centinaia di miliardi di euro negli ultimi vent'anni eppure il Parlamento si gira dall'altra parte consente la prosecuzione di quel meccanismo per duro che potrà sembrare è una forma di concorso esterno lo Stato paga i costi e la mafia incassa i proventi questo succede ogni anno e succederà anche il prossimo è evidente che serve una nuova legalità che colmi il disastro della precedente come evidente sarebbe l'effetto immediato nei nostri quartieri nelle nostre periferie a contrasto del degrado e a favore di sicurezza e convivenza l'Istat ci ha certificato il valore di questa proposta in termini quantitativi che investono solo alcune delle questioni ma quei 13 miliardi all'anno di cui si appropia la criminalità organizzata a mezzo del traffico di stupefacenti in buona parte cannabis e derivati sono un'ipoteca sul paese ma sono anche il motore di possibili trasformazioni noi abbiamo immaginato un meccanismo virtuoso in cui libertà personale la famosa liceità della coltivazione per uso personale e la regolazione dello Stato convivessero bene colleghi non si fa né l'una né l'altra si preferisce lasciare le cose come stanno abbiamo cercato di mettere a disposizione del paese 7 miliardi all'anno per la scuola il territorio il lavoro la ricerca la prevenzione voi avete faticato a trovare qualche 100 mila euro per garantire il diritto alla salute per decine di migliaia di cittadini 67 mila in questo momento cosa resta qua dentro nel testo di tutto ciò che dieci anni dopo il decreto turco si prova a sistematizzare l'ovvio e l'esistente si prova a uniformare le legislazioni regionali a programmare il fabbisogno nazionale la formazione del personale medico a promuovere la ricerca mi permetto però di osservare che molte di queste cose già potevano essere fatte ma non sono accadute o anche in alcune regioni sì e in altre no a testimonianza della mancanza di volontà politica anzi di una sorda resistenza se vogliamo dircelo sinceramente è stato asserito con incrollabile certezza che la pianta non è il farmaco ma allo stato delle nostre conoscenze è vero esattamente il contrario la pianta è il farmaco basta andare fisicamente nelle nostre farmacie quando vengono rifornite ci siamo astinuti su tutti gli articoli ci siamo visti respingere tutti gli emendamenti il nostro voto sarebbe scontato ma noi voteremo un principio quello per cui soprattutto nel testo completo quello di un anno e mezzo fa per la prima volta la cannabis è entrata in Parlamento non dalla porta dell'inferno ma dalla porta della speranza che è propria un voto favorevole sarà il nostro che dimostra come ci sarebbero stati i termini in questa legislatura anche per soluzioni più avanzate che tuttavia la cattiva politica non ha voluto percorrere un voto tecnico come tecnica quella fiducia che vi abbiamo garantito sullo ius soli se il governo si decidesse a porla a questo punto io non credo ci siano più alibi per non ripetere questa discussione al Senato della Repubblica e approvare almeno questo la ringrazio l'onorevole Farina onorevole Rondini grazie presidente l'utilizzo della cannabis a scopo terapeutico ha sicuramente un potenziale in buona parte ancora da esplorare in generale si è dimostrata un'efficacia dei cannabinoidi nel ridurre nausea e vomito associati a chemioterapia ma non in misura superiore ai farmaci già disponibili per quanto attiene la stimolazione dell'appetito in pazienti con AIDS l'effetto positivo deriva per lo più da casi anedottici in linea generale in molti studi si è osservato un miglioramento del sintomo dolore anche se l'analisi dell'efficacia ad oggi risulta difficile in quanto le prove si basano sull'utilizzo di tipi e formulazioni di cannabinoidi molto eterogenee e soprattutto nel trattamento di tipi di dolori diversi il ricorso all'uso di cannabinoidi in alternativa agli analgesici opiacei o la contemporanea somministrazione per lenire il dolore nei malati oncologici sottoposti a trattamenti cronici riduce i rischi e gli effetti indesiderati associati all'utilizzo di opiacei ci sono alcune evidenze scientifiche che uno dei principi attivi contenuti nella cannabis il cannabidiolo sia parzialmente efficace in alcune forme di epilessia resistenti alle restanti terapie il cannabidiolo è un principio attivo neuroprotettivo presente a basse concentrazione nella cannabis ed è privo di quegli effetti euforizzanti e psicomimetici che sono quelli ricercati in chi usa la cannabis a scopo ricreativo diversi studi hanno poi evidenziato una efficacia nella riduzione della spasticità muscolare associata a patologie neurologiche ed in particolare alla sclerosi multipla fatte questa breve permessa riteniamo che vadano certamente esplorate le possibilità terapeutiche dei cannabinoidi ed in parte il provvedimento possiamo dire va ad agevolare questo percorso anche se oggi ad oggi non possiamo dire che vi siano evidenze scientifiche chiare tali da poterci consentire di affermare che i derivati dalla cannabis possono essere considerati una vera e propria terapia ma tutt'al più un supporto ora la proposta in aula è altra cosa rispetto a quella di cui si era caldeggiata la discussione con tanto di campagna mediatica tutta tesa ad imbonire l'opinione pubblica possiamo dire che il danno alla tutela della salute delle nostre comunità è stato in parte evitato grazie all'eliminazione dal testo della proposta nel corso dell'esame nelle commissioni affari sociali e giustizia della parte che avrebbe condotto alla legalizzazione della cannabis per uso ricreativo come subdolamente viene definita e liquidata semplicisticamente una questione delicata oggetto di un'azione legislativa tentata e non ancora definitivamente tramontata che avrebbe un effetto sicuramente assolutamente dannoso qualora fosse adottata un nuovo termine quel ricreativo politicamente corretto che ha lo scopo di far passare presso l'opinione pubblica l'idea che in fondo uno spinello non fa male d'altro canto la produzione di questi nuovi termini tesi a imbonire l'opinione pubblica è un tratto caratteristico delle maggioranze più o meno trasversali che hanno dettato tutta l'agenda politica dei governi che hanno guidato il bel paese dal 2012 ad oggi basti ricordare il termine di maternità surrogata con il quale è stata liquidata la turpe pratica dell'utero in affetto nello stesso solco si muove anche il tentativo di far passare come innocuo il farsi uno spinello vale la pena ricordare che in psichiatria l'uso di parole inventate o di parole usate arbitrariamente con valore simbolico è sinonimo di schizofrenia ed è il caso di chi si ostina a produrre neologismi politicamente corretti che trovano ampio spazio nella produzione delle proposte dei colleghi che compongono questo fronte trasversale neologismi che attengono a quell'ampia rivoluzione antropologica tesa a liquidare principi in essi che hanno retto la convivenza delle nostre comunità e di cui maggioranze più o meno trasversali sono lo strumento ora i sostenitori di questa linea che avevano compilato il testo che prevedeva la legalizzazione della cannabis sia per uso ricreativo che per uso terapeutico hanno cercato nel recente corso dell'esame in commissione che ha preceduto la prode in aula di far rientrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta tentativo poi reiterato anche in aula attraverso una serie di emendamenti con i quali si è tentato di ripristinare la convivenza delle due questioni ora pare come dicevo ripeto che il danno sia stato evitato per lo meno al momento detto questo avevamo presentato una serie di emendamenti che avevano l'unico scopo di diciamo restringere ulteriormente il campo circoscrivere il perimetro per evitare che il provvedimento sia utilizzato come piano inclinato che conduce ad un uso che non sia solo quello terapeutico della cannabis semplicemente per garantire che i farmaci a base di cannabis possano essere prescritti solo ed esclusivamente per i fini che dovrebbe assicurare la proposta di legge ed ancora emendamenti che avevano lo scopo di evitare che questa legge possa diventare il diciamo lascia passare per un'altra che vada nella direzione della legalizzazione della cannabis per uso come dite voi ricreativo quel ricreativo che si usa magari si usa dire nei circoli politicamente corretti abbiamo fatto nostre le legittime preoccupazioni di chi con il fenomeno della tossicodipendenza si misura sul campo quotidianamente come le comunità terapeutiche e sebbene riteniamo di aver scampato un pericolo con il nuovo testo di cui ci accingiamo a concludere l'esame il mancato recepimento delle nostre proposte emendative così come quelle di alcuni colleghi che avevano lo stesso obiettivo proposte ribadisco di buonsenso ci induce a credere che dietro questo testo di legge si cieli anche il proposito di agevolare qualcosa che non condividiamo per queste motivazioni il gruppo della Lega Nord voterà convintamente contro questa proposta che riteniamo ambigua grazie ringrazio onorevole rondini onorevole scopelliti grazie presidente sottosegretario io confesso onestamente di affrontare questo passaggio parlamentare con un sincero imbarazzo perché non riesco a capire come non si può provare un sentimento del genere quando il Parlamento decide di reggiferare su una materia che è già verrà colamentata da tempo senza che per un motivo o per un altro siano mai sorte contestazioni serie affondate sul suo concreto valore sulla sua funzione regolatrice nell'ambito del nostro sistema sociale o sull'eventuale necessità di intervenire in via legislativa per aggiornare sostituire o cancellare punti specifici della normativa esistente la materia di cui stiamo discutendo oggi è già regolamentata da un decreto ministeriale del 2007 modificato e aggiornato in termini significativi anche nel 2015 uno strumento che ha funzionato e che tuttora funziona bene ma evidentemente per qualcuno ciò non era sufficiente per cui si è avvertita l'insopperimibile necessità di introdurre norme di rango primario su una disciplina che è già tracciata con disposizione di natura secondaria come il decreto ministeriale e avvertiamo dunque a questo punto la necessità rispetto a queste considerazioni di sottolineare il nostro impegno a favorire un indispensabile percorso di semplificazione normativa che comporta uno snellimento progressivo del sistema legislativo e offre maggiori garanzie sotto il profilo della reale applicazione delle disposizioni che poi è ciò che sta a cuore a tutti ecco Presidente io su un punto desidero essere assolutamente chiara il gruppo di alternativa popolare è convintamente favorevole all'uso terapeutico della cannabis non vorrei che ci fossero degli equivoci questo è importantissimo e fondamentale bisogna sottolinearlo in ogni occasione però con la stessa forza noi ribadiamo di non accettare passivamente questo modo di procedere che invece riteniamo sbagliato impegnando il Parlamento a legiferare su una materia che è già ben regolata e incoraggiando il ricorso a un'ipertrofica produzione legislativa perché concordo e promuovo insomma quello che è l'impegno a favore dei malati però questo non deve essere assolutamente usato poi invece per andare a sanare quelli che sono degli equilibri politici questo secondo me non sarebbe giusto non è rispettoso nemmeno nei confronti del malato e non credo appunto che sia una fuga dal tema ricordare seppur per brevi tatti la storia di questo provvedimento dunque il 26 luglio scorso le commissioni riunite a seconda e dodicesima hanno adottato il testo unificato che è oggi in discussione come testo base perché nella seduta del 6 ottobre 2016 la Camera aveva rinviato in commissione la PDL 3235 che ha inzendenizzato in quota opposizione su richiesta del gruppo sinistra italiana SEL che ha intitolato disposizione in materia di legalizzazione della coltivazione della lavorazione della vendita della cannabis e dei suoi derivati ecco in quella circostanza l'alternativa popolare ostacolò in maniera forte e determinata la discussione di un provvedimento che si riteneva estremamente dannoso per il paese ci si è sempre opposti anche con altri gruppi all'uso della libera commercializzazione e coltivazione della cannabis e faccio notare al di là delle considerazioni etiche sociali o di altra natura che quel progetto di legge contraddiceva peraltro l'articolo 32 della Costituzione e la stessa giurisprudenza della Suprema Corte della Consulta e che la posizione di alternativa popolare risultava ancora più solida e forte a seguito del numerose approfondite audizioni svolte dalle commissioni di merito che sostanzialmente ricordavano come l'uso della cannabis fosse altamente nocivo per l'uomo e in special modo per i giovani in commissione infatti il provvedimento ha cambiato pelle e avviato verso una normativa che riguarda la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad esclusivo scopo terapeutico questo testo rispetto a quanto disposto dal decreto ministeriale 9 novembre 2015 introduce quindi indubbiamente alcune novità e tra queste novità quelle più significative non sono altro che la traduzione di un percorso già ben avviato presso i competenti tavoli del ministero della salute tavoli e mi permetto di dire che più che dalle contingenti esigenze di propaganda tipiche della peggiore politica rispondono solo alle regole della scienza mi riferisco in particolare alla linea già tracciata dal ministero in metodo all'impiego della cannabis per le finalità della terapia del dolore oltre che alle iniziative di oggetto di approfondimento che puntano innanzitutto sulla formazione e sulla sensibilizzazione del mondo vedico verso le straordinarie potenzialità della cannabis medica e questo che noi critichiamo è un metodo che riteniamo sbagliato perché lo stesso risultato lo si poteva ottenere attraverso un atto di natura e di regime giuridico diverso come il decreto ministeriale visto che la materia ripeto è già regolamentata e si poteva veramente continuare su questa strada senza sovraccaricare la materia con norme di rango primario per questo siamo contrari a intervenire per legge favorendo appunto l'ipertrofia legislativa che ormai tutti invece chiedono sia contrastata su materie che risultano già regolate dal ministero competente e riteniamo questa PDL semplicemente frutto di considerazioni e valutazioni che sono estrane alla materia specifica e a un corretto percorso normativo già col decreto ministeriale del 2015 infatti veniva concretamente valorizzata la funzione della cannabis ad uso medico un importante punto di approdo del chiassoso dibattito strumentale durato fin troppo tempo che pur di sostenere l'impiego della cannabis per altri fini ha rischiato di pregiudicare gli sviluppi positivi che quel decreto ministeriale aveva affermato e consolidato una strumentalità di sederiamo ribadirlo con forza consumatasi soprattutto sulla pelle delle tante persone in stato di sofferenza che dall'utilizzo di quella terapia avrebbero tratto beneficio in questo quadro risultano utili appunto le disposizioni che mirano a cristallizzare il percorso di nazionalizzazione della produzione di cannabis ad uso medico una scelta questa che garantisce allo stesso tempo la qualità della sostanza e cosa a cui teniamo particolarmente la certezza del suo impiego a generale beneficio della sicurezza non solo dei pazienti ma dell'intera collettività e va anche detto che va scritta a questo e dal precedente governo la significativa scelta di puntare sullo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per allocardi la produzione nazionale di canna a bis ad uso medico una scelta nata dall'accordo del 18 settembre 2014 dal ministro della salute e il ministro della difesa che ha richiesto anche l'impiego di risorse economiche recentemente accresciute per iniziativa dell'attuale ministro della salute con tale scelta si è dunque avviato un percorso finalizzato a garantire davvero ai pazienti cui vengono prescritte preparazioni magistrali di origine vegetale a base di cannabis di accedere alle cure in tutto il territorio nazionale superando anche il rischio di eventuali carenze regate alle temporanee indisponibilità dei prodotti importati e al contempo riducendo i costi connessi alle procedure di importazione dall'estero in questo contesto va inquadrato il recentissimo decreto del ministro della salute con il quale dopo 25 anni è stata finalmente aggiornata la nuova tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali attraverso la quale è stato conferito il giusto rilievo all'operato dei farmacisti nel servizio del loro assicurato di fornitura delle preparazioni magistrali tra le quali vi sono quelle a base di cannabis importantissimo risulta anche nell'ambito della produzione nazionale della cannabis l'intervento programmatorio e previsionale delle regioni proprio al fine di individuare il quantitativo dei fabbisogni nazionali il quadro complessivo che riguarda l'uso terapeutico della cannabis ci sembra in sostanza definito in termini positivi una considerazione questa che non ci impedisce di esprimere però delle valutazioni critiche che più ancora che i metodi usati per definire la materia riguardano le motivazioni intrinseche che noi consideriamo negative ed estranei mi sento di dire al principio che deve guidarci nel superare la dannosa fase della produzione legislativa ipertrofica per prevenire invece a una semplificazione che comporta uno snellimento progressivo del sistema legislativo e offre maggiori garanzie sotto il profilo dell'area all'applicazione delle disposizioni perché ripeto proprio ripercorrendo le tappe che ci hanno portato al passaggio attuale scorgiamo elementi estranei sia alla materia della quale ci interessiamo che al metodo di produzione legislativa che dovremmo adottare e mi permetto di far notare infine un'evidente carenza nel testo attuale una carenza che rende ancora più incomprensibile il fatto che una volta ha deciso di intervenire sulla materia lo sia stato fatto senza arrecare un vero vantaggio alle persone e lo ricordo ancora una volta i tanti pazienti che dalla cannabis traggono dei benefici grandissimi e che sono quelli a cui questo stesso provvedimento è rivolto e mi riferisco all'ispiegabile assenza dei necessari adeguamenti alle norme vigenti che stabiliscono sanzioni per la detenzione della cannabis le quali nella loro pratica applicazione non conoscono sufficienti rimedi in grado di evitare che le sanzioni vengano applicate anche a chi è pienamente legittimato a detenere queste sostanze e dispiace ve lo assicuro rimarcare come è in nome di questa esigenza che il provvedimento è stato incardinato congiuntamente anche alla seconda commissione senza che questa abbia voluto o potuto incidere sul testo che soprattutto per questo motivo e non per tutte le altre ragioni che sono state espresse nel dibattito odierno appare oggi insufficiente e monco noi comprendiamo lo dico ancora una volta che un provvedimento varato dal Parlamento con il corollario di interventi e dichiarazioni riscuota più attenzione che un provvedimento di carattere amministrativo ma io penso che non si possa ritenere ricorosa aderire in posizioni che privilegiano per fini che non condividiamo una produzione legislativa eccessiva e ipertrofica alla semplificazione la semplificazione è forse la cosa più importante nella quale ognuno di noi dovrebbe fare tesoro soprattutto nella gestione di questo Parlamento e quindi un elemento fondamentale di cui tenere conto se desideriamo operare ispirandoci ai principi che possono rilanciare il Paese per renderlo più semplice e trasparente le norme che ne regolano il percorso per queste motivazioni Presidente io annuncio il voto di astensione di alternativa popolare grazie la ringrazio Onorevole Fossati grazie Presidente noi stiamo discutendo su un testo che è un testo apprezzabile la valenza terapeutica della cannabis nelle terapie del dolore e su altre indicazioni mediche è un fatto scientificamente evidente ormai da anni il nostro ordinamento ha da tempo riconosciuto questa evidenza scientifica e nel Paese per iniziativa dei governi ma per iniziativa anche e soprattutto pionieristica delle regioni sono migliaia i pazienti che ricorrono all'uso della cannabis per quelli che sono i bisogni relativi al trattamento delle loro patologie ciò nonostante ad oggi per questi pazienti è difficile garantire la continuità dell'approvvigionamento quindi la continuità della gratuità c'è una difficoltà di carattere burocratico organizzativo anche purtroppo ideologico molti nello schema nel sistema nella filiera del sistema sanitario del sistema produttivo frenano frenano in modo strano davvero c'è un un residuo di creduloneria dentro alcuni alcuni frenatori mi veniva in mente in questi giorni ascoltando alcuni operatori della filiera della cannabis tranquilla quella sativa che non si riesce in questo paese a far aumentare la produzione della cannabis per uso alimentare o per uso per altri usi tessili e le tante cose che con questa che con quest'erba si possono fare proprio perché addosso a questa filiera c'è la creduloneria quasi magica diciamo che si trasforma in uno chiuta repressione sull'erba del diavolo insomma sul danno che qualche volta abbiamo ascoltato anche riportato dentro il dibattito del Parlamento o anche dentro le audizioni che in commissione abbiamo fatto ma oggi riconosciamo questo sforzo che già esiste nel nostro ordinamento nella realtà del paese con legge e costruiamo con questa legge tentiamo di costruire un sistema che si occupa di tutta la filiera dalla produzione al funzionamento della distribuzione disegnando io spero un meccanismo non troppo complicato sono diversi i soggetti che dovranno far funzionare il meccanismo dal Ministero l'Osservatorio Nazionale le regioni il medico specialista il medico di medicina generale le farmacie speriamo bene però noi scriviamo e descriviamo un sistema che se funziona se siamo in grado di far funzionare risponderà al bisogno dei pazienti una buona cosa si poteva far meglio si poteva anche aprire uno spazio per l'autocoltivazione che in questo caso nel caso della necessità terapeutica sarebbe stato un fatto di umanità e di razionalità ma tant'è questo aspetto questa costruzione era presente nei testi di legge che si occupavano complessivamente del tema della cannabis c'era uno spazio nelle proposte in quasi tutte le proposte di legge sull'aspetto terapeutico sarebbe incomprensibile per noi non votarla e quindi il nostro voto sarà favorevole e poi è un inizio è un inizio perché il messaggio che uscirà da quest'aula sarà che quest'erba maledetta può far del bene e ancora come ci ha raccontato il direttore dell'istituto superiore di sanità in un'audizione in commissione non si sa ancora quanto perché la ricerca sta andando avanti e sta misurando l'efficacia qualche volta sorprendente della cannabis nel trattamento di diverse patologie sarà quindi un contributo alla politica perché ritorni all'analisi razionale delle cose e si concentri sulle strategie che servono alla gestione di sostanze che hanno un impatto importante per gli effetti psicotropi sugli stili di vita oltre che sulla salute pubblica e privata su questo versante se noi torniamo ad un'analisi razionale dovremmo vedere un primo punto e qui comincia il problema cioè l'occasione persa in questo dibattito e questo punto è la crisi ormai manifesta delle politiche proibizioniste e la nostra lontananza lontananza del paese rispetto al dibattito sul loro superamento che è un dibattito internazionale che ha già prodotto sperimentazioni che ha già prodotto pensiero cultura che noi non conosciamo abbiamo bisogno di laicità laicità siamo talmente stupiti del nostro fallimento che da nove anni questo governo non convoca la conferenza nazionale sulle droghe che è un obbligo di legge dovremmo fare ogni tre anni sono nove anni che questo paese non discute questa è una vergogna a tutti gli operatori tutti coloro che si muovono in questo campo chiedono disperatamente che in questo paese si riapra una discussione e perché non si fa perché dopo il derilio repressivo fallito della Fini Giovanardi non si sa che dire non si sa che fare per il trattamento delle sostanze stupefacenti per intervenire nel paese per risolvere i problemi che non si vogliono risolvere eppure questo fallimento è diciamo sancito e affermato con grande chiarezza da un organismo per esempio come la direzione nazionale antimafia io leggo tre righe possiamo così sintetizzare ad oggi dice la direzione nazionale antimafia nella relazione del 2017 gli argomenti a favore del superamento del proibizionismo la direzione nazionale antimafia primo la rilevantissima sproporzione fra l'impegno profuso e cioè il numero di uomini le risorse giudiziarie poliziesche finanziarie e materiali impiegate per far fronte ad un mercato composto da milioni di persone e di risultati assai magri raccolti dall'azione di contrasto al fenomeno sia in termini di condanne davvero da scontare pochissime che di sequestri e confische effettuate e effettuabili alle non certo insuperabili ragioni di carattere sanitario che possono consigliare la repressione penale del fenomeno si ricorda lo dice la direzione nazionale antimafia dei danni correlati all'abuso di alcol tabacco e cannabis dove la cannabis è l'ultimo la minaccia minore in termini di pericolo per la salute terzo la dimostrazione dell'inanità di ogni sforzo confermata dal progressivo aumento di consumatori e del giro dei affari e conclude dicendo che in questa prospettiva sembra coerente l'adozione di una rigorosa e chiara politica di legalizzazione della vendita della cannabis accompagnata da una parallelazione a livello internazionale in particolare europeo che consenta la creazione in prospettiva di una più ampia area in cui il fenomeno si è regolato in modo omogeneo capite che ci dice per la prima volta eh adozione di una rigorosa e chiara politica di legalizzazione accompagnata politicamente da un'azione a livello europeo non i due tempi che sono stata la scusa che per anni eh ha giustificato la eh non attuazione di nessuna scelta e cioè il fatto che o si faceva a livello internazionale o sarebbe stato possibile intervenire questi sono gli uomini le donne eh che garantiscono la tutela della nostra sicurezza e della legalità in questo paese quindi i dati perché noi per non fare eh costringiamo a a a non considerare dei dati eh che sono drammatici e ridicoli allo stesso tempo noi viviamo in un paese dove il che è nella media europea dove il 36% dei dei giovani ha consumato e eh periodicamente eh con diverse frequenze consuma eh cannabis eh noi viviamo in un paese dove sono coinvolte in questa vicenda eh milioni di famiglie noi viviamo in un paese dove da 20 anni vado alla conclusione dove da 20 anni è un dato che leggevo eh nel nel report del 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 Insieme all'Istat su questo punto, 857 mila persone, soprattutto ragazzi, sono stati fermati e gli è stato richiesto, come è la procedura di legge, di fare un incontro con la prefettura. 857 mila persone hanno fatto questa ridicola cosa del colloquio con la prefettura che solo nel 10% dei casi si trasforma in un'indicazione di un rapporto con il servizio delle dipendenze per affrontare il tema in modo più specifico. Questo è il punto. Noi spendiamo ore e ore, milioni di denaro pubblico in una persecuzione ridicola a milioni di persone. Concludo, e concludo non potendo non rivolgermi al Partito Democratico, vede perché le strade erano due, lascio correre il dibattito su un tema controverso e sensibile, su binari liberi della coscienza e conoscenza dei parlamentari, senza coinvolgimento diretto del governo e impegno della sua maggioranza, o quello che avete scelto. Mi deve ascoltare. Il suo tempo è già scaduto da 30 secondi, quindi la invito a concludere veramente, non a rivolgersi ad un altro interlocutore e cominciare un altro periodo. Prego. Presidente, ha ragione, io concludo con una frase. Quello che avete scelto è un'altra cosa. Fare una scelta di partito e su quella base chiudere la possibilità che in Parlamento potessero crearsi maggioranze a favore di una intelligente legalizzazione. Ne pagherete un prezzo, ma lo farete pagare a tutti noi. Grazie, onorevole Ferraresi. Prego. Grazie, Presidente. Questa proposta di legge che stiamo trattando è una proposta ovviamente incompleta, che ci fa piacere, ma ci lascia la mare in bocca, perché era una proposta che era partita con tutt'altro obiettivo, ovvero quello di regolamentare la cannabis a 360 gradi. Dopo le varie proposte, Ferraresi e Farina, che trattavano della coltivazione per uso personale, si è arrivato a una proposta unitaria, che si sperava creasse, diciamo, una più ampia convergenza di tante forze politiche sul tema, per poi discuterne a livello parlamentare. Questo è stato fatto, è stato raggiunto un testo, il testo a prima firma Giacchetti del Partito Democratico, firmato e sottoscritto dai deputati del Movimento 5 Stelle. Questo testo aveva tre pilastri fondamentali, la coltivazione per uso personale, i Cannabis Social Club, la commercializzazione sotto lo stretta regolamentazione dello Stato con il monopolio e, terzo e ultimo pilastro, cannabis ad uso terapeutico, per far accedere i tanti malati che in questo momento ne hanno bisogno, con una legge unitaria su tutto il territorio nazionale, senza discriminazioni e con un accesso che non comporti la burocrazia e i costi attuali. Questa proposta è stata depositata a luglio del 2015, più di due anni fa, dopo già diverse audizioni. Siamo ritornati a fare audizioni e ogni giorno, ogni settimana il Movimento 5 Stelle insisteva in Commissione Giustizia e Affari Sociali perché si discutesse questa proposta. Non c'è stata una seduta vuota del nostro apporto, del nostro impegno per far calendarizzare questa proposta, per far discutere questa proposta, per fare in modo che questa proposta semplicemente andasse avanti, venisse discussa. Abbiamo sempre chiesto una discussione che fosse nel merito però, che si basasse sulla realtà, sui dati statistici, sulla scienza, non sulle ideologie, non sulle bufale, non sulle bugie. Tutto questo purtroppo non è stato attuato, diciamo, perché dal 2015 abbiamo subito un ostruzionismo anche di rappresentanti della maggioranza notevole, che hanno messo un muro tra la discussione di questo argomento e chi, i parlamentari che volevano discutere di questo argomento, senza preclusioni, senza soprattutto l'apporto del Governo, che doveva rimanere fuori, visto che tantissimi parlamentari hanno sottoscritto questo testo, dal PD a Sinistra Italiana, possibile, MDP, Movimento 5 Stelle, alcuni addirittura più verso il centrodestra. Bene, dopo due anni siamo riusciti a portare in aula un testo. Ma che testo abbiamo portato in aula? Abbiamo portato in aula un testo che è stato in Commissione Giustizia e Affari Sociali assolutamente distrutto. Ma la cosa più triste di vedere un testo distrutto per la sua grande maggioranza è che a distruggere non sono stati solo i rappresentanti di Udc, di Alternativa Popolare, di Lega Nord o della Destra o dei Fratelli d'Italia, che con preclusioni ideologiche, senza andarsi a studiare un minimo di atti o di dati, hanno votato contro, hanno detto semplicemente fa male, punto. Non valutando quella che è la realtà. Ma la cosa più triste è che a distruggere questo testo, il sogno dell'intergruppo, sono stati proprio gli stessi deputati del Partito Democratico che questo testo l'avevano sottoscritto e che ancora una volta sono tornati indietro, deludendo tutte le aspettative che avevano creato, visto che avevano parlato spesso di legalizzazione. E poi addirittura in aula non sono nemmeno usciti, ma hanno votato contro agli emendamenti proposti dal gruppo del Movimento 5 Stelle o da altri gruppi riguardanti la legalizzazione stessa, rimangiandosi ancora una volta la parola. Presidente, l'argomento legalizzazione è un argomento importante per la giustizia. La Direzione Nazionale Antimafia ha fatto una relazione in due anni consecutivi che dice come sia preminente la discussione di questa legge, il superamento della legge attuale, sia per garantire una libertà alle tante forze dell'ordine e alla magistratura che si vorrebbe occupare di reati ben più gravi e non di andare a arrestare un ragazzo perché coltiva tre o quattro piante in casa sua. E questa è una vergogna. È una vergogna perché sappiamo tutti i danni che si creano alle famiglie, addirittura suicidi, semplicemente per coltivare una pianta all'interno della propria casa o per coltivarla ancora peggio perché si ha bisogno di cure, perché ci si vuole curare. Questo è inaccettabile. Andremo a sgravare i tribunali e già solo con l'autocoltivazione per uso personale potremo arrivare a un risparmio fino a due miliardi di euro semplicemente togliendo tutti questi problemi alle forze dell'ordine, ai magistrati, togliendo questi problemi a chi si deve occupare di altro e togliendo soprattutto un mercato alla criminalità organizzata e pensate addirittura al terrorismo. Sì, perché toglieremo anche una grossa entrata al terrorismo. Cantone, come il PM Andrea Padalino, come la Direzione Nazionale Antimafia, dice che una legalizzazione di una droga controllata anche nelle modalità di vendita non potrebbe avere effetti migliori rispetto allo spaccio che avviene alla luce del giorno nella totale e assoluta impunità e che riguarda amplissime fasce della popolazione giovane. Perché i dati ci dicono che è maggiore la repressione, maggiore il consumo di cannabis, soprattutto tra i giovani dai 15 ai 19 anni. Sì, negli stati dove la legge è più repressiva il consumo aumenta soprattutto tra i giovani. Quindi, se vogliamo preservare la salute, l'integrità e il non contatto dei giovani con la criminalità o con droghe più pesanti, dobbiamo legalizzare, regolamentare, controllare. Questo significa questo intervento. Nessuno, nessuno Presidente, vuole incentivare il consumo di cannabis, ma vuole regolamentare un mercato già libero, perché l'attuale legge, la Fini-Giovanardi, ha fallito e tutte le leggi repressive in Europa hanno fallito, perché il consumo aumenta, aumenta gli introiti della criminalità organizzata, aumenta il contatto dei giovani con sostanze tagliate, con altre tante sostanze tossiche e con veri e propri criminali che gli avviano al crimine e all'uso di droghe pesanti come cocaina ed eroina. Per non parlare dei tanti malati che devono affrontare una via assolutamente insidiosa, burocratica, con costi enormi, perché in Italia non è garantito il diritto alle cure, o almeno non è garantito in sostanza il diritto alle cure, con la cannabis e che devono avere un approvvigionamento da stati esteri che la fanno pagare assai care. Molto probabilmente neanche con questa legge potremmo ottenere tutti questi risultati se non cambiamo l'indirizzo. Ma diciamolo bene a chi dirà che noi volevamo ostruire l'avanzata di una legge per la cannabis ad uso terapeutico. Diciamolo bene che il ministro Lorenzini in tutti questi anni e la maggioranza in tutti questi anni potevano svegliarsi il giorno dopo e con un decreto ministeriale dare la possibilità di uniformare su tutto il territorio nazionale l'accesso alla cannabis ad uso terapeutico e se ne sono totalmente fregati, salvo poi giustificarsi in aula dicendo non mischiamo perché le cose sennò sarebbero rallentate. Allora veramente vergogna perché oltre ipocriti, oltre a queste giustificazioni che non stanno né in cielo né in terra, avete anche recato un danno a tutti quei malati che oggi non riescono ad avere accesso a questa sostanza. Avrei voluto vedere tutti quelli che votano contro, tutti quelli contrari alla legalizzazione proporre magari un emendamento in cui si diceva che anche il tabacco visto che fa 6 milioni di morti in tutto il mondo all'anno 700.000 morti in Europa, 70.000 morti in Italia era proibito oppure un emendamento per contrastare l'alcol e i superalcolici visto che ne fa quasi altrettanti, 30.000 morti per tutte le patologie che derivano a causa dell'abuso di superalcolici, perché non l'avete fatto? Perché la cannabis, sappiate cittadini e colleghi che una sostanza che rispetto ai milioni di morti che fa alcol e tabacco ne ha 0 accertati, 0 morti accertati da cannabis dopo tutte queste motivazioni, dopo le motivazioni di carattere produttivo creeremo posti di lavoro abbiamo anche l'ultima, che è quella più egoistica quella di avere fino a 10 miliardi di introiti per lo Stato in Colorado li usano per la ristrutturazione delle scuole le restituiscono ai nostri cittadini noi le restituiamo alla criminalità organizzata e alle mafie questa è la nostra ipocrisia noi come Stato Presidente, in conclusione il gruppo del Movimento 5 Stelle che era a favore di una discussione su questo argomento che prendesse una o l'altra direzione ma pur che si arrivasse voterà favorevolmente prendendosi la responsabilità di votare un testo che seppur azzoppato è un testo che va nella direzione sempre se il Senato lo proverà di garantire i diritti ai malati e questo teniamo che avvenga ma non possiamo rilevare che l'ipocrisia, la falsità del Partito Democratico ancora una volta ha garantito l'impunità ha garantito le mafie e non il diritto dei cittadini ad avere un prodotto che potrebbe veramente risolvare questo paese ne avremo occasione più avanti grazie grazie onorevole Giuditta Pini grazie presidente le leggi proibizioniste degli ultimi anni hanno creato molti problemi l'equiparazione tra sostanze ha fatto sì che aumentasse l'uso di droghe più pesanti e che in molti casi per citare una canzone gli amici del campetto passassero dalle Malboro direttamente all'eroina alla faccia delle droghe leggere hanno aumentato la repressione e hanno annullato la prevenzione e la fine Giovanardi ha fatto di peggio ha sancito che i cannabinoidi fossero cito privi di utilità terapeutica escludendo così non solo la scienza ma migliaia di persone dall'accesso ai farmaci e con un paradosso che non esistono giustamente limiti per gli oppiacei ma i cannabinoidi invece erano banditi da queste contraddizioni della nostra legislazione è nato l'intergruppo e il cosiddetto testo Giacchetti che è arrivato in aula per la prima volta nel luglio del 2016 da quel dibattito in aula è emerso non solo che non esisteva una maggioranza parlamentare sulla legge ma che tra i proponenti cioè tra di noi c'erano dieci posizioni diverse su ogni punto purtroppo e da quella discussione del luglio 2016 sono iniziate gli appelli e le richieste da parte dei medici e dell'associazione dei pazienti per separare le due questioni e quindi per separare l'uso terapeutico dall'altro uso l'uso ricreativo e dare priorità al primo all'uso terapeutico è stato detto anche poco fa che bastava sarebbe bastato un decreto del ministro ma perché il Parlamento deve fare una legge d'altronde qual è il nostro lavoro se non fare le leggi il problema è che il decreto è stato fatto è stato fatto nel 2014 e proprio da quel decreto quella che ha fatto nascere la sperimentazione a Firenze sono emerse una serie di problematiche che dicevano che bisognava intervenire con delle norme per stabilizzare e rendere diciamo più sicuro l'uso e la sperimentazione della cannabis ad uso terapeutico in tutto il territorio nazionale per prima cosa una ricerca sulla cannabis terapeutica che fosse una ricerca pubblica finanziata con soldi pubblici e in questo decreto l'AIFA finanzia la ricerca e attraverso questa ricerca mi perdoni collega si per favore allora colleghi non si preoccupi presidente per favore prego e quindi per capire attraverso questa ricerca se i suoi impieghi possono essere allargati anche ad altre patologie ed è per questo che c'era le altre patologie all'interno della legge questa legge prevede anche che si possono trovare altre strutture oltre all'istituto chimico e farmaceutico di Firenze che consentano la coltivazione e la trasformazione della cannabis e dice poi un'altra cosa inserisce la formazione del personale medico e consentitemi un secondo ho sentito delle cose in quest'aula veramente vergognose che paragonavano i medici a dei pusher non solo insultando la professionalità dei medici ma insultando tutti quanti noi e la loro serietà del personale medico che tutti i giorni ha a che fare con il dolore che tutti i giorni ha a che fare con la lotta contro il dolore e che non per questo non meritano per questo di essere catalogati come dei pusher è stato detto poi anche poco fa che tanto le regioni non hanno già fatto la legge quindi perché noi dovremmo fare una legge quando le regioni hanno già fatto la legge omettendo ovviamente che non tutte le regioni hanno fatto la legge ma d'altronde se non è la mia ragione chi se ne frega è che le 14 leggi regionali sono diverse l'una dall'altra e che quindi a livello nazionale il paziente non è tutelato perché non ha la stessa legge non ha lo stesso accesso al farmaco e non ha la gratuità di accesso al farmaco e infine di chi stiamo parlando perché in questi mesi in queste settimane noi stiamo lavorando su questa legge per chi stiamo lavorando stiamo parlando di malati di sclerosi multipla che sono resistenti alle terapie convenzionali stiamo parlando di chi parla di dolore cronico stiamo parlando dei malati oncologici o affetti da HIV che a seguito delle terapie soffrono di nausea e vomito e che hanno bisogno di questi farmaci per avere una vita dignitosa stiamo parlando di malati di glaucoma dei malati della sindrome di Tourette stiamo parlando della dignità del paziente stiamo parlando della dignità delle persone davanti alla malattia e davanti al dolore stiamo parlando della dignità della loro vita e delle persone che gli stanno accanto e questo queste persone che oggi ci guardano da domani guarderanno con gli stessi occhi il senato con la speranza che il senato porti avanti questa legge e la concluda e la approvi entro la fine di questa legislatura per tutti questi motivi e per molti altri annuncio il voto favorevole del partito democratico la ringrazio onorevole Pini ha chiesto la parola presidente Marazziti per un breve ringraziamento intanto per cortesia se prendiamo posto e anche se abbassiamo il tono della voce può essere utile ecco grazie presidente effettivamente mentre ci avviciniamo al voto finale su questo provvedimento che ha avuto un iter molto lungo che a volte è sembrato burrascoso al contrario è arrivato a un punto di sintesi che speriamo potrà essere utile al paese ai malati almeno a quei primi 67.000 che oggi ne hanno bisogno mi permetta di ringraziare il grande lavoro fatto dalle due commissioni affari sociali e giustizia e a nome della presidente Ferranti e mio mi preme di ringraziare il grande lavoro anche del primo relatore della commissione seconda nella prima fase l'onorevole Farina e la straordinaria serietà di una deputata intelligente come la relatrice Miotto non sarebbe stato possibile senza la collaborazione di tutti i funzionari della Camera e mi permetta di dire la leale e paziente collaborazione anche in questo caso della commissione bilancio grazie la ringrazio presidente Marazziti a questo punto se non vi sono obiezioni la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul testo unificato dalle proposte di legge recante disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis a uso medico la votazione è aperta De Girolamo Fontana Capezzone Mognato Sorial Frusione Gli hanno votato tutti? Chi è che non riesce? Bocuzzi Mantero Fanucci Mantero è riuscito? Bocuzzi ancora non è riuscito arriva un tecnico Sorial Sorial per l'appunto Presidenza non sbaglia mai Folino Ci siamo l'onorevole Bocuzzi è riuscito onorevole Iannuzzi ben alzato la Presidenza accoglie con gioia il suo arrivo in aula di vita di vita poi al vostro buon cuore chiuderei la votazione anche l'onorevole Duva ci sono altri colleghi nel piazzale antistante oppure possiamo chiudere ha votato l'onorevole Duva a questo punto direi ah c'è l'onorevole Anzaldi ben arrivato anche lui ben alzato ben Anzaldi direi prego l'onorevole Anzaldi sì buonanotte allora siccome la cosa assume un carattere grottesco la votazione è chiusa presenti trecentosettanta votanti trecentocinquantasette assenuti tredici maggioranza centosettantanove favorevoli trecentodiciassette contrari quaranta la Camera approva grazie a tutti grazie a tutti